GM NC SNC, impianti termotecnici di Cantù. GM si occupa di impianti di riscaldamento, condizionamento e idrico-sanitari, spaziando in tutti i settori dell'impiantistica civile e industriale e offrendo servizi di installazione, manutenzione e sostituzione caldaie. Lo staff specializzato, inoltre, progetta, installa e offre assistenza a qualunque tipo di impianto idraulico e termoidraulico. Da GM troverete anche impianti di energie alternative, solare termico, geotermico, pompa di calore e di depurazione e trattamento acqua e aria, caldaia condensazione a gas e a gasolio. Per maggiori informazioni o per un preventivo gratuito, contattate lo 031 730213.